Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi per cominciare volevo parlarvi un po' del neoclassicismo. Ovviamente, l'abbiamo detto all'inizio, sia Canova che Thorvaldsen appartengono al movimento neoclassico. Sono anzi due dei maggiori rappresentanti di questo movimento. Ma non vi avevo parlato di un personaggio molto importante e molto famoso, e cioè John Winckelmann. Questo personaggio è stato il principale teorico di questo movimento, che si sviluppò nella seconda metà del Settecento, ma che poi ha contraddistinto anche gran parte del secolo successivo. Che cosa ha detto Winckelmann nei suoi scritti? In particolare, la cosa più importante è che lui ha affermato la superiorità dell'arte greca rispetto a quella romana. Per capire questa affermazione, dobbiamo innanzitutto andare a vedere il contesto in cui lui ha fatto questa affermazione. Allora, Winckelmann nasce nel 1717 e muore nel 1768. Quindi stiamo parlando di un personaggio che vive nel Settecento e che fa queste affermazioni in questo secolo, in un secolo cioè in cui c'erano stati due avvenimenti molto importanti. Infatti nel 1738 e poi nel 1748 vi erano stati i ritrovamenti delle rovine di Ercolano e Pompei. Questi ritrovamenti avevano innanzitutto risvegliato la passione per l'antichità da parte degli artisti e degli intellettuali, ma avevano ovviamente attirato moltissimi viaggiatori in Italia. Viaggiatori che venivano da vari continenti, venivano anche da tutta Europa. Ovviamente anche Winckelmann si reca a Pompei e a Ercolano per studiare questo tipo di arte. Fino a quel momento, attenzione, non c'era stata una differenza tra l'arte greca e l'arte romana, perché arte greca e l'arte romana andavano sotto l'unica dicitura, diciamo sotto l'unica categoria di arte classica. È proprio con questi ritrovamenti che si cominciano a studiare le differenze tra l'arte greca e l'arte romana e Winckelmann studiando l'arte greca dirà che quest'arte è superiore all'arte romana. Perché? Perché a suo parere è un'arte che è nata in completa libertà, cioè è nata in un contesto democratico. Quindi se è nata in un contesto democratico è stata realizzata da uomini liberi. Quindi questa libertà fa sì che questo tipo di arte sia superiore all'arte romana. Attenzione perché queste sue idee andranno poi a influenzare tutti gli artisti del secolo e anche del secolo successivo. Io volevo leggervi un paio di frasi tratte da una sua opera perché è importante analizzare quelle che sono diventati due termini famosissimi e fondamentali per indicare il neoclassicismo e cioè nobile semplicità e quieta grandezza. Questa definizione probabilmente l'avete già sentita o già io ve l'ho nominata in altri contesti e sono state parole appunto pronunciate proprio da questo teorico. Andiamo a vedere cosa dice. Lui dice la generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza sia nella posizione che nell'espressione. Come la profondità del mare che resta sempre immobile per quanto agitata ne sia la superficie. L'espressione delle figure greche per quanto agitate da passioni mostra sempre un'anima grande e posata. Beh questa frase racchiude tutto il significato che adesso andiamo ad analizzare. Che cosa vuol dire nobile semplicità e quieta grandezza? Allora secondo Winkelmann le opere dell'arte greca non è che non rappresentassero le passioni. Rappresentavano le passioni però lo facevano in una maniera contenuta. Cosa vuol dire? Che guardando un'opera dell'arte greca le passioni erano presenti però i soggetti non erano turbati da queste passioni. Quindi la grande capacità da parte dell'arte greca di creare una quieta grandezza cioè rappresentare le passioni in modo contenuto. Cosa vuol dire invece nobile semplicità? La capacità da parte dell'arte greca di rappresentare le figure in pose semplici che però riuscissero a comunicare la grandezza di un'anima. Quindi le figure non erano scomposte. I movimenti delle figure erano semplici e non esasperati. Quindi le pose non erano bizzarre, virtuose eccetera erano semplici. Quindi questi greci erano in grado secondo Winkelmann di comunicare le passioni in modo equilibrato attraverso delle pose semplici e non esasperate. Ecco è a questo tipo di ideale che tutti gli artisti a lui contemporanei secondo la sua opinione dovevano rifarsi. Dovevano imitare a suo parere l'arte greca. Che cosa vuol dire imitare? Imitare secondo Winkelmann non significava copiare pedissequamente le opere dell'arte greca, ma significava soltanto prenderne ispirazione per poi andare a creare un qualcosa di assolutamente personale, individuale. Bene, allora io vi ho fatto questa introduzione sul neoclassicismo per spiegarvi ovviamente i nostri due artisti, Canova e Torvalsen. E qui mi fermo e faccio una domanda e questa domanda la rivolgo a voi. Secondo voi qual è tra Canova e Torvalsen l'artista che più si è rifatto a questi precetti definiti da Winkelmann? Ecco vi lascio qualche secondo per pensarci e per rispondere, ovviamente poi io vi darò la risposta, ma vi chiedo poi con tutta la sincerità di questo mondo, tanto non siamo mica qui a fare le interrogazioni, di magari riportare nei commenti la risposta che avete dato così di primo acchitto. Così ha sensazione qual è dei due secondo voi l'artista che più si è avvicinato agli ideali di Winkelmann? Bene ci avete pensato, penso che ormai abbiate già dato una risposta perché deve essere una risposta proprio molto d'impatto. La risposta giusta è Bertel Torvalsen. Un po' strana questa risposta perché c'è da dire che se apriamo qualsiasi tipo di libro di storia dell'arte, in generale appunto la storiografia artistica, ha portato avanti l'idea che fosse Canova il principale artista rappresentante del neoclassicismo, colui che meglio di altri si è rifatto agli ideali di Winkelmann. Ma in realtà se noi andiamo a fare un confronto come questa mostra ci ha permesso di fare tra Canova e Torvalsen ci rendiamo conto che in realtà pur essendo uno dei più importanti artisti neoclassici, Canova ha seguito molto meno l'ideale di Winkelmann rispetto a quello che ha fatto Torvalsen. E questo l'abbiamo già cominciato a vedere nel confronto che abbiamo fatto tra i due autoritratti e tra le tre grazie. Ma andiamo a farlo ancora, continuiamo così vi dimostrerò la vereticità di questa affermazione, quindi di questa risposta. Andiamo a fare un altro confronto e lo facciamo con le Veneri questa volta. Il tema della Venere è sicuramente un tema che Canova ha trattato tantissimo, che ha amato moltissimo e se fossimo stati in mostra io immediatamente vi avrei portato davanti a un dipinto di Antonio Canova chiamato La Sorpresa. Abbiamo già detto che Canova nei momenti di libertà, nei momenti liberi si dedicava alla pittura, ma si dedicò alla pittura, questo ve l'avevo detto nella prima puntata, anche in alcuni momenti in cui fu obbligatoriamente lontano da Roma e quindi non poteva dedicarsi alla scultura. È proprio in questo periodo che nasce quest'opera pittorica dove lui rappresenta una fanciulla, una fanciulla in un pudico atteggiamento mentre sta uscendo dalle coltri del letto, quindi lei si è appena svegliata, si è alzata e si sta coprendo con i panni come se fosse arrivato qualcuno che la sta spiando. C'è un'assoluta semplicità, un'assoluta essenzialità nella rappresentazione dove c'è questo nudo isolato al centro e un sfondo, si intravede il letto che è quasi sfumato, quindi al centro c'è veramente la figura della ragazza. Il corpo è di profilo e il volto è di fronte. Ecco lui cosa sta facendo Canova in quest'opera, sta studiando, perché questo lui faceva nelle opere pittoriche, studiava le future composizioni scultore, quindi inizialmente la sua idea era quella di rappresentare appunto la Venere con il volto girato verso di noi e il corpo invece di lato, quindi lui sta sperimentando in pittura per poi andare ad esprimersi nella scultura. E come si esprimerà nella scultura? Beh pensate che Canova ha realizzato ben quattro versioni della Venere, non una ma quattro. Era tipico del Canova andare a riproporre uno stesso tema. La prima Venere che Canova realizza è una commissione assolutamente molto importante e cioè è la Venere italica, probabilmente è la Venere più famosa in assoluto tra le opere del Canova e quindi probabilmente quella che voi avete subito alla mente. È un'opera che nasce per andare a sostituire la Venere dei Medici nella tribuna degli uffizi. Perché c'era sorta la necessità di sostituirla? Perché come avevamo già visto la Venere dei Medici era stata portata via dai francesi durante le requisizioni. Quindi si era creato un buco, un vuoto, che fu sostituito da un'opera del Canova. Abbiamo già parlato dell'importanza di questo gesto, cioè il fatto che un'opera del Canova sostituisse un'opera della classicità significava eleggere, le opere dell'arte moderna, a degne sostitute dell'arte classica. Ma questa è stata la sua prima rappresentazione della Venere. Ne seguiranno altre tre. Allora innanzitutto volevo leggervi l'opinione che dà Ugo Foscolo guardando la Venere italica e confrontandola con la Venere dei Medici. Ovviamente la Venere dei Medici diventa modello per il Canova nella realizzazione della Venere italica. Bene, Ugo Foscolo ricordando la Venere italica confessò se la Venere dei Medici è bellissima Dea, questa che io guardo e riguardo è bellissima donna. Luna mi faceva sperare il paradiso fuori di questo mondo e questa mi lusinga del paradiso anche in questa valle di lacrime. Quindi sostanzialmente Ugo Foscolo, sappiamo essere stato un grande sostenitore del Canova, in questo caso Ugo Foscolo si schiera verso la Venere italica sostenendo che la Venere dei Medici è una bellissima idea mentre la Venere italica è una bellissima donna e questo lo andremo ad approfondire tra poco. Ma attenzione perché vi dicevo che Canova non si ferma la Venere italica ma realizzerà la seconda opera per il principe ereditario Ludovico di Baviera che attualmente si trova a Monaco e una terza per Luciano Bonaparte e una quarta versione per Thomas Hope. Bene, noi in mostra non avevamo ovviamente la Venere italica come tanti avrebbero sperato che attualmente è a Palazzo Pitti ma avevamo la quarta versione della Venere. La quarta versione chiamata Venere Hope perché perché era stata commissionata da Thomas Hope grande mecenate e committente artistico che avevamo visto essere il committente di Torvalsen, era stato colui che gli aveva commissionato il Giasone e che gli aveva quindi permesso di rimanere in Italia e quindi di diventare poi molto famoso. Ovviamente essendo un illuminato mecenate si era rivolto anche ad Antonio Canova e la Venere che noi avevamo in mostra rappresenta proprio un'evoluzione del tema della Venere rispetto a quella che era la sua prima versione cioè la Venere italica. Infatti se noi andiamo a metterle a confronto notiamo che nella quarta versione Canova ha eliminato il cofanetto ai piedi della Dea, ha variato anche la posizione delle braccia che non si accostano più sul petto nel trattenere il drappo ma sono posizionate in una maniera diversa. Una mano, la mano destra, trattiene un drappo e copre il pube della giovane, l'altra mano invece cerca di coprire il seno ed è posta quindi nella parte superiore. La grande differenza tra queste due opere è che nella Venere Hop è presente un naturalismo più accentuato e dove lo vedo? Lo vedo nella mano, guardate, nella parte alta che quasi si sta conficcando nella carne, no? Quindi quasi sta affondando le dita lei all'interno della carne. C'è anche più naturalezza nel movimento del corpo, c'è una diversa inclinazione infatti, c'è più dinamicità rispetto alla Venere Italica. Quindi che cosa vi sto dicendo? Che la Venere Italica era molto più legata ai modelli dell'arte classica. La Venere Hop invece va già oltre, crea quindi più movimento, crea una naturalezza maggiore, c'è una grande espressività nel volto, l'atteggia alla sorpresa, no? Come se fosse appena uscita dal bagno e qualcuno anche qui la stesse spiando, ma soprattutto offre una molteplicità di punti di vista che sappiamo non essere una caratteristica dell'arte classica. L'arte classica prediligeva un unico punto di vista. Lei è una donna in movimento qui, il movimento serve per rendere l'idea della sorpresa, rendere quindi l'emozione. Bene, se andiamo a vedere la Venere invece di Thorvaldsen, andiamo a vedere che questa Venere è diversa, è nuda, completamente nuda, cioè non si sta neanche coprendo, perché è rappresentata in un momento totalmente differente. La classicità prediligeva la rappresentazione dei personaggi non nel momento dell'azione, ma nel momento successivo all'azione e questo permetteva appunto più facilmente di contenere le passioni. Ecco, in questo caso Thorvaldsen fa esattamente questo, rappresenta la Venere in un momento successivo al movimento e la rappresenta concentrata, come lui spesso fa, su un oggetto. Questo oggetto è una mela, un pomo che lei sta portando in mano. La rappresenta quindi in riposo, secondo questa convenzione classica, però il contenuto narrativo c'è comunque, non è che questo prevarica la presenza del contenuto narrativo. Lei è intenta a osservare questo pomo che gli è stato dato da Paride. Allora, vi ricordo velocemente il mito, Zeus ha organizzato un banchetto per festeggiare il matrimonio tra Peleo e Teti, che diventeranno poi i futuri genitori di Achille. A questo banchetto non era stata per ovvi motivi invitata Eris, che era della discordia e di conseguenza lei si è arrabbiata tantissimo e ha gettato in mezzo al banchetto una mela d'oro con l'iscrizione alla più bella. Ovviamente tutte le dè si accalcano per prendere questa mela e quelle che la pretendono sono tre dè, Hera, Atenea e Afrodite. Vanno ovviamente da Zeus e gli chiedono di scegliere a chi dare questa mela. Zeus si rifiuta e dice no, assolutamente, sceglierà a questo punto l'uomo più bello dei mortali. E chi era? Era Paride. Quindi le tre dè vanno da Paride e gli propongono, ognuna propone a Paride qualcosa in cambio della mela. In particolare Atenea gli promette la sapienza e l'imbattibilità in guerra, che sarebbe stata molto utile a quei tempi. Hera invece gli propone ricchezza e potere immenso e gloria, tant'è che il suo nome avrebbe riecheggiato fino alle stelle. E per ultima Afrodite, cioè Venere, promette a Paride l'amore della donna più bella del mondo. Paride sappiamo che sceglierà Afrodite e otterrà quindi l'amore della donna più bella del mondo, che era Elena. Peccato che Elena era già sposata ed era sposata con Menelao, re di Sparta. Ovviamente Paride ottiene il suo amore e quindi la porterà a Troia e questo evento darà avvio, secondo il mito, alla guerra di Troia. Quindi questa mela che sta portando in mano la Venere di Thorvaldsen è una mela che suggerisce la riflessione sul significato della bellezza, ma soprattutto sull'ineluttabilità del fato, perché prefigura la guerra di Troia. A differenza di quella del Canova, è una Venere che mostra un punto di vista privilegiato, quello frontale. Quindi non ci sono più punti di vista perché non c'è il movimento che è presente nella Venere del Canova. La grazia, tra l'altro, appare molto semplice qui in Thorvaldsen. Lei è una donna completamente nuda, ma nonostante il fatto che lei sia completamente nuda, a differenza di quella del Canova, la Venere di Thorvaldsen non è sensuale, è austera, è semplice. La sensualità è tutta nella donna rappresentata dal Canova. La Venere di Thorvaldsen rimane assolutamente una divinità intoccabile. Ecco, credo, spero di essere riuscita a rendere la differenza tra questi due artisti, a farvi capire come effettivamente tra i due sia stato Thorvaldsen quello che più ha aderito agli ideali di Winkelmann, perché ha fatto riferimento all'arte greca, quindi rappresentazione delle passioni in maniera contenuta, contenuto narrativo ma senza farsi prevaricare dalle passioni, movimenti contenuti, non bizzarri, non virtuosismi. Il movimento sta tutto in Canova, l'espressione, l'espressività, le passioni preponderanti sono presenti in Canova, non in Thorvaldsen. Ecco che qui è la differenza grande tra questi due artisti. Ultima Venere che vi faccio vedere è invece quella di Mathieu Kessel, che era un assistente di Thorvaldsen, pensate che ha lavorato con Thorvaldsen a suoi bassorilievi del giorno e della notte, che abbiamo visto nelle scorse puntate, e ha realizzato anche lui una sua Venere. Ve la volevo far vedere perché, come potrete ormai notare assolutamente da soli, lui ovviamente ha guardato sia all'opera di Thorvaldsen che all'opera del Canova, in particolare ha tratto dalla Venere Italica l'espediente del panneggio, ha fatto invece riferimento a Thorvaldsen nell'acconciatura, nella posa, nei caratteri del viso. Ma l'espressività forte di questo viso, di questa bocca che lascia trasparire un sentimento, ci fa capire che in realtà tra i due questo ragazzo, che seppur era l'assistente di Thorvaldsen, in realtà ha guardato di più a Canova e cioè a un certo momento ha voluto abbandonare lo studio pedisseco dell'arte greca per rivolgersi verso un'espressività maggiore e una rappresentazione delle passioni e del naturalismo accentuato che caratterizzava Canova. In mostra ci sono altre due opere che ci tengo a farvi vedere per concludere questa puntata e che ci parlano dell'abilità e della capacità che Canova mise nel realizzare dei corpi giovani, giovanili, di uomini nudi. Uno è l'Apollo che si incorona, che è un'opera del Canova pensata nel 1781-82 ed è la prima opera in marmo che lui realizza a Roma. In quest'opera ci sono ancora delle cose che non sono fatte molto bene, per esempio la testa è un pochino troppo piccola rispetto al resto del corpo, anche la torsione della spalla sinistra non è completamente convincente, addirittura noi qui non lo vediamo ma c'era un buco praticamente sotto il braccio sinistro, un piccolo buco irregolare che ci racconta il fatto che Canova probabilmente aveva colpito troppo in profondità col cesello, quindi un piccolo errore. Però nonostante questa opera sia una delle prime che quindi mostra anche un momento di apprendimento da parte del Canova, in realtà è da considerarsi come il suo punto di svolta verso l'ideale, perché presenta tutte le caratteristiche del grande Canova nella composizione, nell'esecuzione. Mentre l'altra opera che volevo farvi vedere è l'Apollino. L'Apollino è un passo ulteriore del Canova nella riflessione sulla bellezza del corpo adolescente e ci rappresenta appunto Apollo, dio della musica, del sole, delle arti, quando si prepara ad uccidere il serpente Pitone, questo serpente che noi vediamo avvolto intorno al tronco che gli fa da sostegno. Il dio è armato di arco e faretra, lo vediamo appena dietro il tronco e è poco più di un adolescente in realtà, quindi è proprio uno degli esempi di quella graziosità, di quella grazia di cui Canova è stato maestro. Una cosa che volevo farvi notare e che vale anche un po' per altre opere è il basamento dell'Apollino. Il basamento dell'Apollino ci mostra una sorta di una base cilindrica, diciamo, a forma di ara che però ha un marchigiene, un meccanismo al suo interno, infatti si vede una sorta di manopola, no? Ecco, questo meccanismo permetteva all'opera di essere fatta ruotare con un movimento molto leggero alla presenza dei visitatori. Ecco che in questo caso i visitatori potevano apprezzarla da tutti i lati. Intanto questo marchigiene ci dimostra la necessità da parte di un artista che presentava le sue opere nell'atelier di mostrarle in tutta la sua bellezza, in tutta la loro bellezza a coloro che andavano a vederle e che quindi poi avrebbero potuto comprarle e chiederne una versione in marmo. Ma dall'altra parte ci racconta anche di come le opere del Canova effettivamente non avessero un punto di vista privilegiato ma fossero da vedere assolutamente da davanti, da dietro, da sinistra, da destra, quindi da tutti i punti di vista. Un qualcosa che non apparteneva alle opere di Thorvaldsen e non apparteneva al canone dell'arte classica. Ci vediamo nella prossima puntata dove andremo finalmente a vedere il confronto tra Amore Psiche e Lebe dei due artisti. Grazie a tutti.